Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Tra Ginestra Fiorentina e Firenze via Dotto dell'Indiano. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Chiudiamo con i treni fino al 21 settembre per lavori. Sulla linea Grossito-Siena la circolazione è sospesa tra Grossito e Buon Convento, prevista riprogrammazione del servizio con corse bus. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!